buongiorno a tutti sono Michele Bergamin del negozio il sano dormire in corso Emanuele Filiberto Alecco centro specifico del sonno specializzato nella vendita di materassi e reti ad oga marchio manifattura falomo oggi vi parlo di questo interessante articolo scopriamo assieme di cosa si tratta buongiorno sono Michele Bergamin del negozio il sano dormire di lecco e sono qui per presentarvi un nuovo materasso della linea manifattura falomo comfort il materasso si chiama animo pillow top è un materasso a molle insacchettate indipendenti ed è composto nella seguente maniera abbiamo innanzitutto in superficie un trapuntino in materiale fill hd molto traspirante molto soffice come sensazione iniziale dove al di sotto troviamo invece un importante spinta dovuta al nuovo molleggio flexi zone a sette zone a portanza differenziata queste molle insacchettate indipendenti sono rivestite da un box in acqua tecca ad alta densità il materasso è un materasso piuttosto traspirante quindi adatto anche a persone che soffrono particolarmente il caldo durante la notte ottimo abbinamento con sistemi letto box spring box spring light e doghe dogma plus oppure in alternativa anche la nuova rete antireflusso motorizzata per oggi è tutto grazie dell'attenzione e vi invitiamo a provare di persona il prodotto nel nostro showroom a lecco per maggiori informazioni visitate il sito all'indirizzo www.materassilecco.it se vi è piaciuto questo video mettete mi piace o iscrivetevi al nostro canale youtube e ricordate che il buongiorno si vede dal materasso grazie per la visione